Cancellato ballando con le stelle 2018 di stasera? Ecco la scelta Rai Stasera 31 marzo salta la puntata di Cancelletto ballando con le stelle 2018 su Raiunno. La padrona di casa Milli Carlucci in questi giorni ha dovuto affrontare un periodo molto difficile per la sua vita. La scomparsa del suo caro amico Fabrizio Frizzi. Un vero e proprio dramma per la conduttrice dello show che era legata da una profonda amicizia con Fabrizio che andava al di là degli impegni lavorativi. Stasera salta ballando con le stelle 2018 su Raiunno. Ecco perché in questi giorni, intervistata dal Corriere della Sera, abbiamo visto che Milli Carlucci ha dichiarato che le sarebbe piaciuto poter. Saltare la puntata di Ballando con le stelle 2018 di questa settimana, in segno di rispetto nei confronti di Fabrizio Frizzi. La conduttrice dello show del sabato sera di Raiunno ha svelato che in questo momento lunica cosa che le piacerebbe fare. È quella di poter stare da sola e piangere per la scomparsa di questo caro amico che sarà sempre presente nel suo cuore e in quelli di tutti gli italiani. Momento estremamente difficile per la conduttrice di Cancelletto ballando con le stelle. La quale solo qualche settimana fa aveva preso in diretta televisiva della morte di Bibi Ballandi, produttore dello show di Raiunno e grande amico della Carlucci. Ecco allora che dalle pagine del Corriere della Sera la Carlucci ha lanciato questo appello alla Rai. Lasciando intendere che in questo momento le sarebbe piaciuto poter fermare per una settimana lo show e tornare così in onda dalla prossima settimana. La scelta della Rai su Ballando con le stelle 2018. La Carlucci, infatti, ha rivelato che non è la sola ad essere scossa per la morte di Fabrizio Frizzi ma anche tutto il gruppo di lavoro dello show e i concorrenti stessi. Molti dei quali erano degli anci di vecchia data di Fabrizio che tra laltro era stato anche concorrente dello show. Ma cosa succederà alla fine stasera 31 marzo? Ballando con le stelle sarà in onda di nuovo in diretta su Rai 1 oppure no? Nonostante l'appello di Milli Carlucci, possiamo svelarvi che questa sera il programma sarà in onda lo stesso. La Carlucci, infatti, ha rivelato sui social che ci sono degli obblighi aziendali che vanno rispettati e come tale stasera sarà in onda in diretta con il suo show. La puntata sarà ovviamente dedicata a Fabrizio Frizzi e non mancherà un personale ricordo della conduttrice. e dei vari protagonisti dello show al conduttore che ci ha lasciati davvero troppo presto. .